benvenuti a questo nuovo special del salotto monogatari una delle mie tante belle chiacchierate con matteo arcamone e che saluto ovviamente amici e sarà sul prossimo edizione del sicilia queer film fest sarà insomma uno scandaglio speriamo rapido sul programma speriamo rapido perché comunque lo copriremo matteo verrà a palermo così come tanti altri avremo dei salotti splendidamente affollati quest'anno per parlare del festival per parlare di un lavoro che insomma ha impegnato tutto il team compreso me in quanto programmer per tutto l'anno di fatto a livello pratico è da agosto 2023 che vediamo film e non pochi per cui siamo arrivati a una sintesi nei nei consueti limiti pragmatici del fatto di essere come dire un festival in crescita e certamente non un festival con finanziamenti e con coperture come possono avere anche altri festival in italia dunque io ho invitato matteo soprattutto perché mi piaceva l'idea e di di vedere cosa lo incuriosisse rispetto anche al programma dell'anno scorso che lui diciamo conosce bene perché è venuto tutto il periodo e si è fatto un'idea della proposta e vuole fare questo festival tanto più che quest'anno il queer è realmente in continuità col sicilia queer dell'anno scorso e chiaramente molte cose lui non le ha viste alcune cose già le ha viste perché siamo entrambi che scorra cinefili che scorrazzano per festival quindi c'è già capitato di vedere cose anche assieme in giro però ecco ti farei partire in generale da da cosa ti attira di più del programma e insomma poi magari faccio qualche lavoro più pedante tassonomico sulle sezioni però insomma se intanto vuoi dirci cosa ti intriga di più ma allora spiluccando il programma a parte appunto i titoli che conosce che abbiamo visto e che sono contento di vedere che sono stati presi dal queer come può essere gasoline rainbow le belle stati già del concorso in realtà sono molto contento di vedere che c'è il film di luca ferri che direi che ormai è un regista che abbiamo imparato a conoscere e sono molto curioso diciamo di del suo nuovo film poi devo dire sono rimasto molto molto contento di vedere questo film che chiaramente non potendo vederlo l'anno scorso ma ero veramente curioso di vederlo visto che avete preso un prince creton esatto poi diciamo abbiamo nel qualche mai a dicembre facendo la lista dei migliori film dell'anno avevamo messo entrambi l'ultimo film di paul vecchialì e infatti sono molto contento di vedere uno in giuria l'attore del film e vedere che il film verrà riproiettato al queer cosa che mi farebbe piacere molto rivedere insomma mi farebbe piacerissimo rivedere il film di paul vecchialì e poi diciamo sono particolarmente curioso della quasi completa su pineiro di cui non ho mai visto nulla ma è un regista che insomma è legato in parte a quello che appunto avevamo già visto in qualche modo a laura citarella perché è argentino e tra l'altro penso che lui abbia fatto dei film col pampero sine cioè da quello che ho capito allora il primo che è l'ombre robato che tra l'altro il primo film che si vedrà al festival sabato 25 pomeriggio è un è una coproduzione del pampero nel senso che credo si legge dall'intervista bellissima che ci sarà sul catalogo che se ricordo bene è stato montato negli studi del pampero quindi è diventato una coproduzione del pampero lui chiaramente conosceva tutti ci saranno le videolettere con mariano ginass che si scambiavano durante la pandemia che sono divertentissime simpaticissime per cui diciamo il legame col pampero c'è dopodiché da un certo punto in poi io credo da partire dal terzo film rosalinda che sarà al lago finfest o al massimo dal quarto dal quarto sicuramente che è viola e che sarà al queer diciamo il marchio diventa quello di trapezio sine che è un altro però la filosofia è tutto sommato quella pignairo forse ne parleremo anzi avremo uno special molto carino del nostro shakespeariano del podcast cioè dario e anche ale che è un nostro shakespeariano quindi ce ne occuperemo durante i giorni del festival però detto questo pignairo diciamo ha la stessa verve borghesiana forse è più letterario ma non nel senso snobbistico noioso ha più un'idea di come si racconta letteratura e il teatro in questo caso la drammaturgia di shakespear ho anche la poesia nell'ultimo film che è tu mi abrasas come si trasportano questi linguaggi al cinema ed è sperimenta ed è non lo so diciamo è molto brillante bisogna entrarci bisogna dargli la fiducia ma comunque sono film piuttosto brevi devo dire che è la cosa che più mi attira e poi devo dire sono molto contento perché continuo un legame secondo me col queer importante ovvero nella sezione carta postale a Serge Denet c'è questa intervista a Douglas Sirk che non vedo l'ora di vedere perché in fondo il mio rapporto con il direttore in zerillo è nato a Locarno durante una retrospettiva su Sirk l'anno scorso al queer c'era un film almeno un film di Sirk mi ricordo quindi due addirittura vedi due o tre perché c'era Old The Travel of the House e c'era anche Come le foglie al vento esatto ma c'era anche Magnifico Sessione ah ok comunque sì certo e quindi procede questo rapporto ormai che va avanti e sono molto contento e poi siamo diciamo sono molto molto contento di vedere due film di Paul Morrissey 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 direi Morrissey Morrissey sì della Factory World sì e questi diciamo sono gli altri due classici che penso rientrino nei classici e sono molto contento di vedere esatto i film di Morrissey sono nella sezione retrovia italiane perché comunque sono film coprodotti dall'Italia con attori italiani e non solo quindi sono diciamo produzioni e furono produzioni trasversali chiaramente alla base c'è la Factory di Warhol e Morrissey che sappiamo essere l'operatore di camera di Warhol nei film firmati da Warhol e finalmente poi a un certo punto regista con i film probabilmente più belli che sono usciti fuori dalla Factory dalla trilogia di D'Alessandro quindi Trash, Flash e Hit fino appunto anche a queste due riletture sexy horror diciamo dei due miti e per quanto riguarda la continuità con l'anno scorso questo è una cosa tra le più diciamo secondo me intriganti di questa edizione proprio perché in realtà non solo c'è l'intervista a Cirque ma i film di Daniel Schmidt che è il regista dell'intervista a Cirque non che è chiaramente autore insomma delle domande dell'intervista il regista Daniel Schmidt svizzero ha realizzato dei film tra cui due che verranno presentati al festival che furono presentati a Locarno quello stesso anno e ci sarà appunto una diciamo ci saranno dei testi nel catalogo che rifletteranno su come Fassbinder, Schmidt è un altro regista che incontreremo in quei giorni per Via Traverse e cioè Werner Schreter siano la triade serchiana della mittele Europa della seconda metà del Novecento per farla generica perché insomma Schmidt lavora fra gli anni Sessanta e gli anni Novanta sicuramente Fassbinder come sappiamo per appena due decenni e Werner Schreter appunto compare nel festival in maniera collaterale nell'intervista che gli fa Monica Troit premio Nino Gennaro di quest'anno regista tedesca del cinema lesbico una delle pioniere gli fa un'intervista e questa intervista diciamo verrà proiettata al festival nell'occasione di un di un dialogo con la regista ripeto nonché vincitrice del premio Nino Gennaro quest'anno che è un premio che viene dato a personalità della ad attivisti diciamo e a forme di attivismo anche come dire parallelo o come dire anche tramite il cinema o tramite le arti ok è stato assegnato a Presiado in passato è stato assegnato a David Levitt per cui come dire quest'anno arriva un'altra figura che è stata molto importante e verrà proiettato anche il suo film quindi in realtà c'è questo filo mitteleuropeo germanofono che che in realtà appunto riporta Serk in patria in qualche modo questa cosa è molto è molto figa fermo restando che Schmidt facciamo tre film nel queer verranno proiettati tre film a queer e questi tre film sono in tre punti del mondo diverso ora è vero che l'intervista a Serk è in Svizzera e la paloma è in Germania quindi tutto sommato ma The Written Face che è un documentario bellissimo è in Giappone è ambientato in Giappone perché è su sul Kabuki è su delle figure particolari del Kabuki quindi come dire c'è questa questa sfida a tenere a tenere come dire traccia rispetto alle edizioni precedenti non so se avevi avevi sbirciato qualcosa o ci sono cose per esempio anche semplicemente di cui non sai assolutamente nulla e che in realtà di cose di cui non so a parte diciamo appunto i titoli del concorso a parte quelli che abbiamo visto insieme e appunto che conosco Luca Ferri ormai da un po' e segui i suoi film in realtà il concorso mi è quasi tutto sconosciuto mi verrebbe da dire stavo sfogliando ancora un attimo ma ti direi che poi per il resto cioè ad esempio Schmid spero di vederlo tutto anzi credo che lo vedremo tutto non conosco niente e quindi sono abbastanza contento e poi spero in realtà come l'anno scorso il queer mi ha regalato anche abbastanza piacere nel vedere presentate certe performance e certe presentazioni di libri in realtà e quindi spero di riuscire anche a fare quelle cose lì a vedere certe presentazioni extra diciamo filmiche questo succede di certo perché per l'appunto ho già parlato della conversazione con Monica Troit e diciamo avverrà adesso compatibilmente con le contemporaneità delle proiezioni perché c'è una certa c'è un certo affollamento nei giorni centrali del festival per inevitabile diciamo per gli spazi che ha il festival per le fasce orarie che impegnano il festival e altri eventi innanzitutto saranno il giorno prima dell'inizio del festival quindi la preapertura che Matt riuscirà a venire perché è il fan numero uno il fan numero uno extra siciliano diciamo riuscirà a venire a assistere non solo a una mostra ma anche allo spettacolo di ballroom il voguing e altri stili di di ballo non so che si chiamano street dance io non me ne intendo troppo però certamente sono le cose che abbiamo visto all'inizio di Climax di Gaspar Noe ecco e saranno allestite sul viale principale dei cantieri o comunque in una zona di fronte uno spazio che si chiama Haus der Kunst all'interno dei cantieri culturali per cui come dire al solito c'è una l'anno scorso avevamo aperto con quella performance dentro l'istituto Cervantes che in realtà è una chiesa sconsacrata dentro la vuciria ecco in questo caso siamo effettivamente ai cantieri però comunque siamo in una in una dimensione che viene rilanciata a livello di spazio questa strada diventa un'altra cosa diventa una pista se mi consiglio ti faccio delle domande io per esempio l'anno scorso ricordo una meravigliosa sigla del festival fatta da Rappaport quest'anno cosa cosa abbiamo c'è un trailer della regista Beatrice Gibson e i cui che è una regista londinese che però vive a Palermo che organizza anche delle rassegne e quest'anno porta appunto un trailer molto particolare in cui in pratica lei ha trovato il trailer si chiama Some Place in Your Mouth e lei ha scoperto che nel parcheggio di un centro commerciale a Brancaccio si riuniscono ogni giovedì sera soprattutto uomini ma in generale anche famiglie con bambini per sgasare con i loro motorini hanno creato una comunità lei ha scoperto questa cosa è andata a fare un ritratto di questo luogo e questo ritratto va a creare il trailer di quest'anno quindi c'è un'altra un'altra esperienza certamente queer sulla Sicilia molto diversa da Rappaport bene quindi questo questa è una una novità questa è diciamo il trailer è quel suo nuovo di Beatrice Gibson cos'altro ti viene in mente rispetto all'anno no stavo poi adesso stavo guardando ma l'anno scorso c'era la sezione eterotopia l'anno scorso c'era la sezione eterotopia era dedicata all'Algeria ok ed era diciamo si si accompagnava le proiezioni spesso c'erano contemporaneità quest'anno la sezione eterotopia è molto trasversale al festival nel senso che si occupa con inevitabile urgenza della Palestina quindi è incentrata sulla Palestina perché la eterotopia è una sezione dedicata ogni anno a uno stato diverso ogni anno si esplorano i problematiche legate ai diritti civili in un paese diverso io ricordo che il primo anno che sono andato se non ricordo male era la la Turchia nel 2014 ecco fu la mia prima esperienza ma c'è stata la Grecia c'è stato ci sono stati paesi del 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 Nord Africa l'Egitto quest'anno c'è la Palestina per ovvi motivi e e la sezione si articola nel seguente modo ci sarà una proiezione di intervento divino di Elia Suleiman esatto infatti stavo guardando premiato a Cannes nel 2001 che insomma per chi ama Suleiman è certamente la forma più pura del cinema di Suleiman forse anche un po' più radicale rispetto al tempo che ci rimane che credo sia un pochino più famoso è più simile all'ultimo a quello paradiso probabilmente mentre la sezione si articola poi in due appuntamenti con Davido Berto che Davido Berto viene a presentare diciamo a fare un dialogo con il pubblico nello spazio del Crazy Plus quindi del localino sai no che si raggiunge dal De Seta attraversando la piazza che si chiama Queer Rising Free Palestine e sarà un insieme di cortometraggi e ci sarà un percorso tramite cortometraggi di artisti palestinesi e sarà diciamo una discussione anche dialettica come dire interattiva con Davido Berto quindi è curata da lui però ecco un'ultima bretella di questa sezione terotopie è la proiezione di un film che si chiama Photo Booth il 27 che è un film stranissimo folle di John Grayson che è un regista purtroppo sconosciutissimo ma che è uno dei più grandi registi di cinema queer lui viene da allora credo che lui sia canadese non vorrei dire cavolate comunque il film è di produzione canadese John Grayson ha vinto il Teddy Award a Berlino in almeno un'occasione però comunque è un regista che ha fatto tantissimi film è uno di quei nomi del cinema queer nudo e puro come potrebbe essere un altro sconosciuto francese si chiama Philippe Valois ora spero sia francese non canadese francofono anche lui se no faccio brutta figura però ecco sono queste figure molto importanti perché c'entra con con la Palestina perché il suo photobooth è una sorta di di fantasia musical folle con dei pinguini dentro non chiedermi in che senso perché sarebbe complicato onestamente raccontarlo è Jean Genet è tutto è un capriccio che uno erroneamente potrebbe dire postmoderno in realtà conduce una ben evidente narrazione quindi non c'è affatto il postmoderno in questo caso ma è più una miscellania appunto di linguaggi di generi è davvero folle e questo appunto ha a che fare con la Palestina c'è dentro il un dibattito molto schierato fra Israele e Palestina dentro il film diciamo il motore del film e quindi in qualche modo si si ricarica anche la sezione eterotopie sì comunque è francese Filippo Lallois quindi non ho sbagliato diciamo adesso ci sono adesso stavo vedendo nel poi che mi ero perso che c'è una corregia di Mariano Linas ai cartas che si sono le videolettere che si scambiavano Linas Ginas e Pignero durante la la pandemia ah ok era New York Ginas era Buenos Aires e si davano dei compiti a vicenda vami a riprendere questo posto vami a riprendere questo raccontami questo raccontami quello fa molto ridere sono otto videolettere per circa cento minuti totali di proiezione è molto divertente no ci sono delle delle cosine piuttosto piuttosto belle sparse qui e lì nel senso che va bene non stiamo entrando nel dettaglio di certi titoli per l'appunto perché li dovremmo scoprire quindi ne parleremo al festival però ecco oltre all'apertura con Problemista che è un film A24 prodotto da Emma Stone con Tilda Swinton quindi è un film di gran richiamo è diciamo folle ci sono anche delle piccole chicche che voglio che voglio indicare perché non solo qualche film che viene che viene presentato in anteprima nazionale è del tipo i due i due ultimi film di Lionel Soukaz in realtà solo l'ultimo in anteprima nazionale Artista Nson Troublé Lionel Soukaz è una figura fondamentale del cine diario dell'epoca dell'AIDS in Francia lui ha girato questi questi giornal che sono duemila ore di girato e c'è Stéphane Gerard che è anche il suo coproduttore il coproduttore dei suoi film che monta queste immagini e Artista Nson Troublé è uno dei suoi ultimi lavori è il più bello e poi in realtà in giuria c'è la figura probabilmente meno conosciuta della giuria che è composta da ricordiamolo Chatrian Carlo Chatrian uscente dal Festival di Berlino come direttore Anna Ince regista di Smok Sauna Sisterhood Pascal Servo come ha detto già Matt attore di Vecchia Lì di Laura Nascar di Catherine Corsigny e così via Chiara Yanez che è una giornalista spagnola diciamo dei Cahiers di Cinema Spagnoli Quadernos de Cine e poi Marie-Louise Lener che è una figura meno conosciuta giovanissima ha fatto solo cortometraggi faremo gli ultimi tre cortometraggi e sono uno spasso vero è una regista austriaca e questi tre cortometraggi parlano di desiderio però ecco a descriverli sembrerebbero veramente l'etichetta del film queer fluido in realtà sono veramente originali quindi questa è una chicca che sicuramente dovevo dire e per chiudere vabbè l'anteprima nazionale di Baldiga il documentario sul fotografo tedesco che viene da Berlino quindi un film fresco fresco e il documentario su Goliarda Sapienza l'autrice dell'arte della gioia quindi il rompe nella sezione fuori concorso panorama queer la letteratura la commedia le tortue con Olivier Gourmet che è l'attore di Dardenne e Dave Jones che è l'attore di Ken Loach in I. Daniel Blake che fanno marito e marito che vogliono divorziare ci sono anche dei incontri di letterature e ci abbiamo insomma la chiusura eventuale ultima domanda di Matte se ne ha e cioè un incontro dedicato a Serge Danet su due testi di cui uno è di Pierre Eugène che è appunto un giornalista francese dei Cahiers che ha scritto un testo molto bello che si troverà sul catalogo a proposito di Daniel Schmidt e dei suoi legami con Serk dei suoi legami con Faspinder e di tutto di come componga un tassello molto importante di quel di quel disegno lì e poi incontri diciamo sulla fotografia e su altre forme d'arte quindi diciamo ci saranno tre incontri consistenti di letterature queer in realtà l'ultima cosa la chiusura la chiusura indaghiamo il fashion film la forma del fashion film che è molto particolare un cortometraggio stranissimo che di fatto è una pubblicità ma era una pubblicità anche Staggering Girl di Guadagnino era una pubblicità anche il lungo film o antologia di corti di Gas Van Sant con Alessandro Michele qualche anno fa questo è Casa Preti e Carmine 810 ed è su una su una appunto casa di moda e di sartoria siciliana ultima cosa direi un film che è stato ci sono anche altre cose che non ho detto però non possiamo dire tutto c'è un film che è stato presentato a Torino è passato un po' inosservato di Agostino Ferrente infatti guarda ti stavo per chiedere quello perché ho notato che il concerto diciamo la parte musicale l'ho letto che è concerto della cineconcerto della Felicità c'entra Agostino Ferrente se non sbaglio Agostino Ferrente con Andrea Satta che è un musicista hanno creato questo cortometraggio che ha dentro Milena Vukotic ha dentro Bersani è questo cortometraggio che si chiama Coupon diciamo viene presentato in una forma di cineconcerto del tipo Rosa Pulforia del Cairo quindi la musica del film viene fuori ci sarà questo questo concerto ma poi il corto diciamo viene presentato nella sua forma tradizionale anche nella sala De Seta che è la sala principale del festival per cui c'è anche questo contributo del cinema italiano di uno dei documentaristi come dire più più affermati e forse importanti al momento della scena del documentario italiano che non è che sia ricchissima però no esatto tra l'altro appunto mi è completamente passato inosservato al Torni Festival quindi sono ben contento è un corto di 20 minuti però è comunque un corto molto molto particolare strano